carissimi buona giornata buon sabato a tutti voi ascoltiamo la parola del signore dal vangelo secondo matteo in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro non potete servire dio e la ricchezza non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo che cosa berremo che cosa indosseremo di tutte queste cose vanno in cerca i pagani il padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno cercate invece anzitutto il regno di dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta non preoccupatevi dunque del domani perché il domani si preoccuperà di se stesso a ciascun giorno basta la sua pena gesù ci chiede esplicitamente da che parte vogliamo stare se con dio o contro dio e poi ci indica la strada da seguire cercare il regno di dio e la sua giustizia cioè compiere le opere buone che ci rendono giusti davanti a lui dio che sa tutto e vuole solo il nostro bene ci chiede di fidarci se ci abbandoneremo tra le sue braccia come un bimbo fa con la sua mamma guariremo delle paure e non ci preoccuperemo più di cosa mangeremo o come ci vestiremo in tal modo saremo anche più pronti a servizio dei fratelli vi auguro una buona e santa giornata dio per intercessione della vergine maria vi benedica e vi custodisco sempre nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen alleluia alleluia